Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Allora, che è successo? Qualcosa di nuovo? Regia? Vi faccio vedere 7 minuti di notte. Benvenuti in serenità al Gay Village. Tutti grossi e tutti gay si stanno divertendo. E' molto carino, ma c'è anche un bel abitore. Se ricordate che perciò che c'è qua, no, 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 no. E' molto carino, no, 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 no. E' molto carino, no, 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 no. E' molto carino, no, 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 no Si mi è stato assegnato con il divorzio, devo dire che ha fatto una parola, ha avuto tutto, ho solo limitato il pigioma, questo è il solito burmaiolo, uno spermiato, tanti secondo me è la prima volta che corteggia una donna matura, ha detto una donna matura, e poi mi ha detto, c'è una vecchia ciabatta per ogni vecchio consiglio, ma signora burle, sono qualcosa di male, ho uno scattivo di lui e come sono smadata, nel quarto secondo me sono me e io vado e c'è ciao, no, 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 Grazie per aver guardato il video.